buonasera londra ciao davide andrea allora abbiamo oggi davide casappa è laureato in scienze motorie collaboratore project in vittus e neo atleta di natural bodybuilding hai fatto un percorso passando dal power lifting quindi dalle alzate del power lifting per poi approdare al natural bodybuilding quindi oggi siamo qua con te per sentire un po che cosa c'è da raccontarci cosa è stato per te questo questo viaggio che cose importanti ti sei portato a casa e che consigli hai da dare ai nostri spettatori allora ciao a tutti è un piacere parlarvi come neo laureato del mondo del bodybuilding io parto nasco nel power lifting uno spot che mi è sempre piaciuto tantissimo fin dal 2017 2018 quando ho iniziato a praticarlo e quindi ho iniziato con squat punk a start mi sono affezionato a queste alzate le ho allenate ho fatto delle gare sono stato in pedana massima posizione raggiunta quarta in una in una gara qui vicino a parma niente sono l'idea negli anni mi sono sempre di più affacciato a un mondo che comprendesse anche l'estetica oltre che lo sviluppo della forza in termini di allenamento quindi avere un approccio tra virgolette che mirasse sia l'inchiamento della forza ma anche al miglioramento della propria estetica quindi lo sviluppo muscolare quali sono i gruppi carenti andare a lavorare sui gruppi carenti quindi oltre a comprendere squat punk a start call nei miei programmi comprendevano che tutta una serie di esercizi che andassero appunto a colmare quelle lacune proprio al punto di vista estetico vi faccio un esempio che magari su di me è andata così su qualcun altro potrebbe andare diversamente però non sono ritrovato ad avere spalle carenti dorso carente e quadricipite un po più carente rispetto magari di luto del femorale interfacciandomi nel powerlifting quindi poi nel tempo ho cercato di andare a risolvere queste problematiche la miccia che ha fatto scattare questa pazzia di fare una gara di natural bodybuilding è stata sono state un pochino tante cause la causa principale è stata quella che io proprio a livello commerciale dovevo inserirmi in un mondo perché vendevo power building vendo tuttora power building quindi un mondo che comprendesse le alzate lo sapevo già programmare modulare sapevo già correggere dal punto di vista tecnico mi mancava l'approccio dal punto di vista del bodybuilding quindi perché no perché non farsi un'esperienza in pedana e rendersi più credibile a quella nicchia di pubblico che magari si vuole allenare con squat punk a stacco però poi in realtà ha anche delle mire dal punto di vista estetico quindi l'ho fatto semplicemente per questo motivo banalmente commerciale d'immagine il secondo motivo è stato che mi ero un pochino tu lo sai perché ci parlavamo mi ero un pochino rotto le palle si può dire di ricevere dei commenti negativi sotto i reel sotto i caroselli cioè di gente che mi criticava perché ero secco ero qui ero là quindi l'idea è stata quella di dire gente che ti criticava avendo un fisico peggiore del tuo esatto era comunque il paradosso perché pur facendo powerlifting io mi ricordo alla convention di tre anni fa non mi ricordo quando era avevi comunque già un ottimo fisico anche facendo soltanto le alzate senza un obiettivo bodybuilding puro esatto bravissimo infatti io ci tengo a ricordare che da due anni fondamentalmente che ho cominciato a sviluppare tanto la parte anche estetica perché prima proprio facevo lo squat anche a stacco qualche complementare ed ero a posto così quindi quindi l'idea è stata proprio quella di confrontarmi con un pubblico che mi criticava e dire ok vediamo se effettivamente davanti a una giuria davanti dei giudici messi in una condizione di competere con altri ragazzi sono effettivamente scarso e l'altra motivazione era quella di vedere cosa effettivamente un fisico natural riuscisse a fare dopo una preparazione perché io ad esempio la convention mi feci seguire da Daniele Esposito e avevo quel fisico lì anche grazie a lui cioè comunque avevo fatto un percorso di dieta eccetera eccetera però non ero mai arrivato a bf da gara veramente basse mi ricordo che il peso massimo raggiunto inferiore con Daniele era 82,2 kg il peso inferiore massimo raggiunto in questa gara era stato 80,8 quindi un chilo e mezzo in meno quella formula lì che a determinati bf fa tutta la differenza del mondo vene un po di più sulla pancia vene sulle gambe mai viste eccetera eccetera perché in realtà poi vai a prendere quella definizione quella qualità muscolare eccetera eccetera che una persona che non so segue le solite preparazioni sia dal punto di vista dell'allenamento che alimentari che si trovano in gare d'oped dice un natural è impossibile abbia quel fisico lì ma è semplicemente una questione di conoscenze e di che cosa si applica poi magari ne parleremo anche un po bene però come dici te un chiletto fa tutta la differenza del mondo ma infatti mi sono portato a casa questa cosa cioè fondamentalmente ho capito che il bodybuilding non è la palestra cioè molto spesso le persone dicono in palestra mi faccio il mazzo faccio la dieta però poi quando sei effettivamente in un contesto di bodybuilding dove devi gareggiare si arriva a fare delle robe io non sono mai stato a 70-60 grammi di carbo al giorno però comunque il minimo raggiunto sono stati 2,40 che per un ragazzo ad 8,80 che pesa 81 kg non è che sia tantissimo quindi veramente arrivi dei momenti in cui hai veramente molta fame sei stanco sei nepposto tu calcola che ai 2,40 c'è qualche carbofobico che non li raggiunge neanche in massa è vero è vero è vero è proprio il cambio di prospettive nel senso è proprio il cambio di prospettive a 360 gradi perché poi anche con l'allenamento cosa è successo? panca, squat e stacco li hai completamente abbandonati ti sei dato solo alle... cioè cosa hai fatto? allora ad un certo punto mi ricordo che ci incontrammo al Rimini Wellness e ti dissi guarda Andrea non sto più scendendo sono bloccato due settimane col peso sono preoccupato eccetera eccetera ecco quello lì è stato lo switch perché in quel momento io stavo già a basso di calorie per il peso che avevo la situazione e per come anche mi allenavo e quindi più o meno quando c'è stata la convention cioè quando c'è stata Rimini Wellness Rimini è stato prima settimana di giugno ok da lì in poi ho deciso di ridurre la frequenza delle alzate perché per me non era più sostenibile allenarmi a determinati chili quindi tenete presente che voi il mio 80% sono 165 chili di squat quindi ogni volta mettersi più o meno quei chili sulle spalle in una condizione di deficit con un peso corporeo che non mi permettesse di avere un APF che mi desse una mano durante le alzate che ti sosteneva esatto diventava veramente invalidante cioè immaginate 165 di squat due 10-15 di stacco ogni volta una volta che finivo le mie alzate non avevo più energia per fare niente quindi inizio giugno la prima gara c'è stata il 24 di settembre da lì in poi le alzate sono state ridotte di frequenza quindi da due squat sono passato a uno squat da due stacchi a uno stacco e da tre panche a due panche fino a ridurle a circa due mesi dalla gara a zero squat, zero stacco e una panca a settimana quindi dopo le ho proprio squat e stacco le ho tolte anche perché avevamo una carenza sul quadricipite e quindi avevo preferito il mio squat tende ad andare sul radduttore, sul gluteo e quindi ho preferito richiamare un'alzata come ad esempio una pressa, una squat, multipower eccetera eccetera che riuscisse a lavorarmi veramente quella zona cioè a enfatizzare la zona del quadricipite ho provato inizialmente con la safety, con i front squat a cercare di andare lì ma sentivo lo stesso gluteo e il quadricipite non veniva coinvolto tantissimo quindi abbiamo deciso di nella fase di cut finale tra virgolette estremo dedicare un po' più di spazio agli esercizi un po' meno difficili sulle macchine e lasciare da parte quelli un po' più complessi ci sta, ci sta nel senso vedo che comunque il trend anche nei video con Dario Masini lui fa tre fasi di cut la terza fase di cut che è quella ormai più prossima alla gara due mesi dalla gara un po' come te si shifta i multiarticolari sulle macchine si cerca comunque il minor stress sistemico possibile per ottimizzare il recupero, le energie eccetera eccetera cosa differente però secondo me è grave se uno ha questo approccio anche durante il periodo di massa tutto l'anno vieni conto infatti bravissimo mi dai un ottimo aggancio che io già dal lunedì ho fatto la gara sabato già dal lunedì con Angelo abbiamo già pensato di reintrodurre da subito squat e stacco ma proprio perché mi mancano cioè sono alzate comunque che mi piacciono io la gara l'ho fatta anche per poter dimostrare quella serie di persone che dicono che chi si allena con squat, punk e stacco non ottimizza l'allenamento del bodybuilder in realtà io sono la prova vivente persona dotata geneticamente ma fino a un certo punto che se ti alleni con squat, punk e stacco e ti piace inserire queste alzate puoi ottenere degli ottimi risultati chiaramente con dei compromessi per l'amor di dio però puoi ottenere degli ottimi risultati anche dal punto di vista estetico perché io ho vinto praticamente quattro gare quindi ma è che avremo anche altri ospiti che racconteranno la loro esperienza e che diranno la stessa cosa nel senso a livello di project Invictus abbiamo sempre detto non è l'esercizio che ti fa diventare grosso ma è la progressione che puoi fare su quell'esercizio nel senso oggi si intende a dire la chest press è meglio della panca perché la panca è instabile la chest press è guidata e quindi teoricamente potrebbe essere vero praticamente se poi sulla chest press non fai le stesse progressioni che faresti sulla panca perché non è divertente perché pensi soltanto ad arrivare a cedimento eccetera 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 non hai un approccio dal mio punto di vista natural nel senso questi sono gli approcci che si fanno in federazioni senza controlli antidoping e poi la gente si lamenta che i bodybuilder natural sono doped perché non si sa allenare non si sa alimentare esattamente infatti stiamo già programmando le alzate cioè oltre all'inserimento aumentare la frequenza che aumenterà sempre di più quindi una progressione sulla frequenza stiamo già programmando una progressione sul carico una progressione sul volume cioè stiamo proprio programmando di reinserirle per tirarci fuori più chili di prima tenete conto i miei massimali sono 205 di squat 140 di panca 240 di stacco l'idea da qui a un anno di migliorare di fare 2.10 145 150 2.50 proprio perché alzando la sticella su queste alzate a cascata si alzano tutte le altre macchine le prestazioni sulle macchine le prestazioni sui altri esercizi ricordiamo che quando parli di Angelo è Angelo D'Alessandro che è il tuo coach di bodybuilding che abbiamo avuto sul canale con te in gara c'era anche Federico Dal Grande che è un altro bellissimo atleta e quindi le strade per l'ipertrofia sono infinite le strade per il bodybuilding natural io vedo che tanti preparatori Angelo ma anche Cristian e Annalisa del natural picking Riccardo Grandi nel senso in realtà questa cosa di porre attenzione agli esercizi per cercare di farci sopra un percorso è una cosa importante che soltanto chi non lo sa fare disprezza esattamente mi sembra un po' la volpe con l'uva esattamente così infatti poi nei commenti quelli a cui mi riferivo prima andavo poi a vedere magari i profili di queste persone che commentavano in modo negativo e non avevano grandissime alzate alcuni non le facevano altri avevano un fisico impresentabile quindi c'è proprio gli manca quell'approccio gli manca quel percorso che alla fine deriva semplicemente dal fatto che ti piace fare quegli esercizi non è che ci sia tutta questa scienza è quello ti piace fare quegli esercizi ti spronano ad andare in palestra non ti fanno mai mollare perché hai sempre qualcosina da migliorare sulla tecnica sul c'hai sempre quella ripetizione in più hai sempre quel mezzo kg in più e tu sei sempre di più spronato perché vuoi vedere risultati oltre che estetici che comunque ci mettono tanto tempo ad arrivare quelli numerici arrivano subito se ti impegni bene quindi è quello che ti sprona a migliorare io ti dico la verità quando ero in cut se avessi dovuto tenere squat punk start non so se avessi continuato il percorso ma in bulk per me sono imprescindibili cioè sono esercizi che mi spingono ad andare in palestra mi fanno sentire atleta a 360 gradi se dovessi allenarmi tutto l'anno in bulk in off season sulle macchine ti dico cercherai comunque delle progressioni cioè cercherai comunque di fare delle progressioni sui parametri sì sì no no è vero è che diciamo che esercizi motoriamente semplici non sono poi divertenti per persone come noi così tanto da programmare nel senso che più l'esercizio tra virgolette stupido e più alla fine ti viene da spingo vaffanculo ed è finita lì più l'esercizio richiede una linea di spinta richiede una coordinazione richiede di mettere in gioco diverse abilità e più allora c'è un'attenzione a quella che è realmente la tecnica quella che è realmente stavo facendo prima di te una chiacchierata sullo streetlifting e il preparatore mi diceva l'unica cosa che conta nelle trazioni è la velocità che se tu programmi arrivi a fare le trazioni lentamente non progredisci mai oltre un totto il segreto per fare bene le trazioni è essere esplosivo questo è quello che deve cercare il programma ecco tutte queste attenzioni si fanno quando si parte da un punto si vede dov'è e si dice ok voglio arrivare oltre questo punto qua se invece io mi dico l'unica cosa che devo fare è spaccarmi alla morte perché bro quelli grossi fanno tutti così in realtà sei sempre lì come un criceto sulla ruota a correre ma poi quello che ho potuto vedere io personalmente è che se cerchi di farlo perché non voglio mentire ho provato a farlo quando avevo solo le macchine perché se ho in mezzo e ho solo le macchine prova a farlo in realtà regadisci cioè su di me ho perso chili cioè ho provato a bafferizzare il meno possibile e alla fine mi sono trovato che perdevo chili banalmente di settimana in settimana non riuscivo a sviluppare soprattutto a fine allenamento perdevo tantissimo perché mi ero stancato molto prima con i primi esercizi quindi i primi esercizi ti ero il sedimento sugli ultimi e non senti neanche più i muscoli sei veramente morto non hai più connessione non riesci più a rendere la mente no no è vero è che capisco cioè se per carità vi piace tirare tutta la morte continuate tanto nessuno vi paga per allenarvi quindi fate quello che volete fate quello che amate e amici come prima però nel senso tante persone non capisco cioè pensano che se non tirano la morte stanno buttando via la serie stanno buttando via l'allenamento stanno buttando perché ci si allena sempre come se fosse l'ultimo allenamento della propria vita e non si sa che la vera programmazione non la scheda che fa in palestra la vera programmazione è una serie di stimoli crescenti nel tempo questa è l'unica cosa che conta il futuro è più importante del presente proprio su questo ti chiedo l'ultimo punto perché prima hai parlato di tempi e secondo me è un concetto interessante che dobbiamo dare adesso cosa farai nel tuo futuro allora il mondo del bodybuilding in realtà mi è piaciuto quindi il programma è fra due anni tre gariggiare ancora non nella categoria classic ma nella categoria bodybuilding quindi dovremmo lavorare tantissimo sullo sviluppo di spalle gambe in particolare i quad e cercare una condizione di tiraggio maggiore perché nel BB vogliono tiraggio quindi so già che sarà sarà dura non mangiare o mangiare meno l'idea è proprio questa qua cioè utilizzare ancora maggiormente di più le alzate dividendo il percorso in blocchi questo primo blocco sarà un blocco di ripristino quindi dopo la gara semplicemente andare ad aumentare le frequenze sulle alzate mentre si ha un aumento delle calorie e stabilizziamo dopodiché ci sarà quasi sicuramente una fase di forza cui cercherò di sviluppare le alzate e portarmi ai chili che ho detto prima e poi dopo quella fase di forza ci sarà una fase in cui cercherò di utilizzare le alzate in funzione dell'aumento della massa muscolare cercando il più possibile delle varianti che mi aiutino quindi noi sappiamo che il mio squat va sull'adduttore e sul gluteo piuttosto che sul quad userò lo squat comunque come motore principale anche perché il quad viene comunque attivato non è che non lavora però sarà sempre presente quel driver principale che mi sprona poi a fare di meglio eccetera eccetera quindi imparando a muovermi meglio sullo squat con più chili idealmente mi aspetto che quando vado sulla pressa riuscirò a fare qualche chili in più riuscirò a fare una ripetizione in più e quella cosa mi farà migliorare nel tempo giusto e poi appunto il concetto è che da natural bisogna dedicare molto più tempo alla fase di costruzione perché per mettere su filetto ci vuole tanto tempo e infatti io vedo comunque difficile come dire un atleta che sa che ormai è arrivato gareggia anche tutti gli anni perché quella ormai è la sua condizione e si mette anche 200 grammi in più e invece un atleta tu sei ancora giovane comunque ti sei approcciato adesso c'è bisogno di tempo per presentarsi in modo differente no no infatti anche rispetto agli altri comunque mi ero fermato a guardare le gare mancava qualcosa e quindi secondo me io ho di questa idea le mie gambe sono cresciute anche in cut cioè in senso dando stimoli di un certo tipo enfatizzando di più determinati gruppi sono cresciute anche in cut perché erano talmente indietro che però l'idea è proprio questa cioè cercare di sviluppare ulteriormente i parametri allenanti cioè questa qua secondo me la chiave di volta su di me è stata la chiave di volta io anche in cut ho cercato questa cosa cercando buffer un po' di più sulla pressa il buffer secondo me le persone pensano che il buffer sia non allenarsi in realtà sei lì vicino sei in una fascia che sei lì vicino al sedimento non è che ci sei molto lontano semplicemente spai mille effort su più serie e quindi fai un po' più di volume e tutto qua e sì sì c'è questa idea che si pensa che il volume è volume spazzatura in realtà in persone deboli è volume spazzatura nel senso che se carichi 100 kg sulla pressa è inutile che stai a fare 10-20 serie nel senso se carichi 200-250 kg poi bisogna vedere come scarica la pressa cioè se incominci hai capito nel senso come dire se fai 2,40 di squat con 2,40 sulle spalle hai un certo peso se fai 60 kg di squat stiamo parlando di altro quindi il volume va sempre poi rapportato alla performance perché se c'è intensità il volume comunque anche non ha cedimento rende il problema delle persone è che non caricano il doping permette di bypassare la programmazione perché ti ritrovi con 30 kg in più di panca senza aver fatto niente esatto infatti ti dico è successo dopo le selezioni la gara delle selezioni che Angelo mi mise una settimana un po' di repristino con i carbo alti 3,50 3,40 quella settimana lì complice la vittoria delle gare complice un pochino questo aumento mi sentivo molto bene e infatti abbiamo deciso di fare un low volume cioè abbassare il volume tirare bene tutte le serie che c'erano da tirare su tutti gli esercizi a parlo di tutti i gruppi muscolari e lì mi ero portato a casa veramente tanto cioè mi vedevo proprio bene a fine settimana allo specchio però è un giochino no? cioè non è che lo faccio tutto l'anno ho fatto un low eh sì ho fatto un low volume perché ero comunque basso di calorie venivo da un kart da una gara avevo le energie giuste 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 per farlo e per tirare bene quelle due serie che mi dava però è una cosa che non funziona tutto l'anno no no cioè se tiri sempre è come se non tirassi mai la realtà è questa nel senso non esiste il tirare sempre nel senso è un'invenzione del bodybuilding d'Oped perché l'essere umano non è fatto per fare per fare così chi lavora su una performance e noi anche se non è il carico la performance in palestra stiamo eseguendo comunque una performance contro sovraccarichi migliorare la performance esclude da natural il tirare sempre per ottenere i migliori migliori risultati Davide io ti ringrazio lascio i contatti sotto quindi se volete seguire su Instagram Davide trovate magari li metto anche qua sopra nel video ma li trovate sotto nella descrizione è stato molto molto interessante sicuramente ci ritroveremo ci vedremo anche su Instagram e grazie per aver condiviso il percorso la tua esperienza grazie a te il percorso ciao a tutti grazie mille ciao